Chiese sempre più vuote e un senso di marcia sempre più difficile da invertire. Mai come nel 2022 si è vista un'affluenza così bassa con presenze dimezzate nell'arco degli ultimi 21 anni. Si è passati infatti da un popolamento del 36,4% nel 2001 al 18,8% attuali. Sono numeri significativi quelli rilevati da Istat qualche giorno fa e che mettono in luce il claudicante stato di salute del movimento cattolico in Italia. Un calo progressivo implementato però da una perdita importante di partecipazione dovuta alla pandemia da Covid. Ha avuto inizio così l'analisi di Don, Marco Di Giorgio, parroco di Montecchio e prossimo vicario della diocesi di Pesaro Urbino. Come impressione generale credo che non siamo né peggio né meglio della media nazionale. Non siamo un'isola felice ma neanche un'isola infelice. Siamo nella media, cioè con questo calo che da anni si registra e a cui la pandemia ha dato un bel contributo in negativo. Sicuramente assistiamo tutti a non solo un calo di presenze ma anche a un calo di presenze giovanili in chiesa. La maggior parte dei fedeli praticanti cosiddetti hanno più di 60 anni, forse 65, mi pare così. La partecipazione è dimezzata, come giudica questo passo indietro fatto in questi vent'anni? Beh, ecco, un po' come dicevamo, un po' è un trend, cioè una tendenza che viene da lontano, insomma, no? Cioè noi viviamo in un contesto, come si dice, secolarizzato, individualista, relativista, cioè viviamo dentro una cultura che uccide il cristianesimo da un punto di vista, diciamo, centrale nei suoi valori che invece sono i valori della fraternità, dell'aiuto, della comunità, del vivere insieme nel nome di Cristo. Quindi, diciamo, non è che c'è da sorprendersi se questa tendenza va avanti e forse andrà ancora avanti. Un contributo negativo è stato dato in questi anni dalle classi di età più giovani, diminuiti di due terzi rispetto al ventennio passato. Proprio per questo il movimento cattolico tenta di invertire la rotta, prestando ancora più attenzione alla giornata mondiale della gioventù che quest'anno si è tenuta in agosto a Lisbona. Quello per esempio è stato un bellissimo segno di speranza. Credo che nessuno si aspettasse un numero così elevato di partecipazione, almeno in Italia. In Italia gli iscritti ufficiali, poi c'erano anche quelli non iscritti, sono stati 65.000. 65.000 ragazzi, diciamo, dai 16 anni in su, che hanno voluto provare questa esperienza. Quindi un bellissimo segno di speranza. Credo che i giovani, come giustamente da sempre sono tali, sono in ricerca di qualcosa di bello e di grande per la loro vita, qualcosa che riempie il cuore e che la società virtuale consumistica non dà. Perché, certo, riempi il cuore con i video, con i like, con i social, con le cose firmate, ma alla fine non ti basta.